Penso che lui sia stato una persona che ha portato la triestinità nel mondo e quindi noi lo omaggiamo con questo muro di 45 metri. Non solo un'opera di street art volta a riqualificare e abbellire le aree della città, in questo caso i muri del Pedocin, ma questa vuole essere anche una dedica a Wolfgang Galletti, il palombaro triestino deceduto nei mari dell'Angola nel dicembre del 2019 mentre lavorava, come sempre, seguendo le sue grandi passioni. Il casco, simbolo del suo mestiere, per ricordarlo. Stamattina è stato inaugurato il murale di 45 metri che racconta il mare con il suo caleidoscopio di colori, un lavoro portato a termine da sei artisti dell'associazione Mel Art. Precisamente io, Federico Duse, Claudio Paolini, Matteo Sifanno, Ingrid Brischic, Francesca Tonsi e Lorenzo Pierro, che ci siamo uniti come un'unica mano su uno sfondo unico. Questo sfondo è diviso diagonalmente dalle onde in modo da uscire dalla verticalità delle colonnette e cambiare un po' la dinamica di forma di un muro con colonne e nicchie. Il risultato è molto buono, a nostro parere. Siamo abbastanza contenti di come si è evoluta la cosa. Siamo abbastanza contenti di aver avuto anche un po' di flessibilità artistica per quanto riguarda la differenza tra il bozzetto e l'esecuzione. Speriamo che ci sia sempre un occhio di tolleranza per gli artisti su questo aspetto qui. In architettura si parla di concept, quindi è giusto dare un concept prima e poi la realizzazione sarà leggermente diversa da quello che c'è nel progetto. Questo riteniamo sia molto importante per la libertà artistica, di poter aggiungere una piantina sotto il mare come un altro animale, sostituire dei soggetti. Questa è una flessibilità che chiediamo anche per le prossime opere.